conversioni su google ads in questo video vedremo con fabio antichi in che maniera impostare recuperare le conversioni una volta settato analytics oppure come andarle a creare direttamente in google ads ti ricordo che con fabio antichi abbiamo realizzato una serie di video su google ads che trovi linkati all'interno alla descrizione di questo video puoi andare lì e andare a guardare il video che più ti interessa perché ne abbiamo realizzati diversi adesso andiamo a vedere in che maniera importare settare le conversioni da analytics o direttamente da google ads andiamo state vedendo il mio schermo che cos'è questo forse per tanti ancora non è familiare ma lo deve diventare è g4 su g4 nell'ultima tabella che avete a sinistra in configura trovate l'elenco di quelle che sono gli eventi tracciati nel vostro e commerce nel vostro sito qua dentro voi potete selezionare quelli che volete che per voi siano una conversione a questo si aggiungerà il valore di transazione qualora appunto sia un e commerce che non è qui questi qui li create voi perché sono tutte le azioni all'interno di commerce il vostro tecnico quando crea analytics fa sì che ogni cosa che uno clicca che uno fa all'interno del sito è un evento voi come tecnici di google ads insomma coloro che dovete fare la campagna venite qua e dite questo per me è importante quindi clic email clic newsletter clic a chi telefona whatsapp e quant'altro tipo la login è interessante potrebbe esserlo quindi io qui scelgo quelle che per me sono azioni importanti ok quello che in questo momento noi stiamo guardando qua dentro è chi ha configurato google analytics che gliel'ha messo esatto quando il tecnico ti mette google analytics che non è non è non so non è il lavoro che so fare io ad esempio io faccio google ads non so configurare un analytics inizia alla fine bene quindi c'è una persona preposta che si occupa di configurare analytics ok ti ritroverai davanti questo elenco di conversioni di di tabelle questo è un analytics giovanissimo a pochi giorni sì e qui selezioni cosa per te importante ora ti direi seleziona neanche tante va benissimo non c'è problemi più dati ai meglio è eventualmente ricordati poi quando crei le campagne di dire alla campagna di non utilizzare tutte le conversioni ma solo quelle che per te sono più importanti quindi alcune conversioni userai su specifiche campagne facciamo un esempio la conversione di iscrizione al newsletter la userai nella campagna dedicata alla newsletter non non avrà un grande peso o login appunto prendiamo che mettiamo che noi tracciamo quante persone fanno la login sul sito che non è un dato da poco però se sto facendo una campagna shopping che vuol vendere di quanti fanno login non mi prega nulla mi interessa quanto sto vendendo quindi ha più senso tipo se faccio una campagna remarketing che vuole spingere una persona a tornare sul sito in quel caso di la login è giusto averla quindi dentro ogni campagna selezionate poi le conversioni che vi interessano o fate appunto dei sotto insiemi da dedicare alle varie strategie tornando un attimo qua una volta che noi abbiamo configurato tutte le nostre belle conversioni è molto semplice in amministrazione sia di analytics che di google ads adesso andremo a vedere anche di là ci abbiamo collegamento di google ads quindi noi andiamo qua e facciamo il nostro bel collegamento a google ads adesso ho sbagliato adesso andiamo su google ads e allo stesso modo andiamo strumenti conversione e qui troviamo un po di cosette da fare troviamo che se abbiamo collegato analytics di nuovo anche qui si facevano strumenti account collegati selezionando analytics questo check è fatto da entrambe le parti quindi vado su analytics e mi che cosa posso fare in questo caso posso andare a importarne le nuove quali sono le nuove quindi dico nuova conversione dice ma da dove vuoi prendere queste conversioni telefonate dalle app normalmente troverete dovrete utilizzare questi importazioni mi fa scegliere c'è un analytics oa se avete analytics 3 analytics 4 in questo caso mi fa scegliere se app firebase il vecchio bari base o web normalmente sarà web quello che abbiamo appena visto relativamente a come si creano appunto le conversi trasformando le azioni in conversioni dentro analytics 4 è questo analisi di terze parti sales force crm vari ma inizialmente saranno uno o due se qui cliccate su continua qualora appunto abbiate definite ora nell'esempio che ho fatto invece guarda ce l'ho anche le selezionate e le importate già finito molto molto veloce non è una cosa complicata se invece praticamente noi abbiamo importato quelle che sono state create su e attivate su google analytics in questo caso abbiamo visto un analytics 4 4 esatto 4 perché il futuro è lì possiamo farlo direttamente da google ads esatto in questo caso scelgo sito web così facendo lui mi dirà dammi il dominio la nostra povera disney ma sagrada disney non vogliamo cioè ci teniamo tanto che quest'estate fatturi allora scansiona guardate che roba assurda forse è meglio se scegliere un sito più piccolo stavolta perché praticamente lui ti scansiona il sito e individua quelle che secondo lui sono le azioni di conversioni in realtà ci ne frega niente di questo le azioni facciamo come vogliamo farle noi quindi aggiungi un'azione di conversione e selezioniamo che cosa vogliamo che fare è un acquisto è un'aggiunta al carrello è l'inizio della procedura di pagamento è un'iscrizione è un contatto è un lead abbiamo un elenco di roba se non c'è ne creiamo un'altra nel nostro caso ci interessa ad esempio chi ci contatta quindi invia un modulo per i lead e la chiamiamo così possiamo averne diversi di lead nel sito se vogliamo essere bravi e misuriamo separatamente se invece per noi sono tutti uguali teniamo tutti insieme hanno un valore questi lead quindi quando uno mi chiama ha sempre lo stesso valore oppure a ogni volta che avviene un valore diverso perché tipo in questa lead la persona mi specifica che prodotto interessata che hanno valori distinti insomma possiamo scegliere questa opzione il mio consiglio è comunque di dare un valore a tutto come abbiamo un po già detto uno riceve diversi tipi di contatto non tutti i contatti hanno lo stesso valore quindi cercate a ritroso di dare un valore le conteggio tutte o una perché facciamo un esempio se io ti chiamo per un preventivo e poi dopo tre giorni ti richiamo non conta cioè nel senso mi interessa la prima volta che entri il contatto con me se invece è un e-commerce ogni transazione che fai io ci guadagno quindi in quel caso te le conto tutte siccome noi stiamo facendo finta di essere un avvocato che cerca clienti quando mi hai chiamato una volta siamo a posto poi mi interessa se mi chiami fra un anno fra due settimane stavi solo cercando il mio numero di telefono su google finestra di convenzione quindi possiamo dire per quanto tempo vogliamo che a ritroso l'azione di quest'utente venga associata al click che ha fatto con noi o addirittura la visualizzazione cioè dopo quanto che ha visto un nostro contenuto qui come vedete la finestra è molto più stretta vi consiglio in questo momento di lasciare esattamente come lo trovate perché se siete all'inizio partite da un dato standard poi eventualmente lo modificate secondo il vostro interesse modello di attribuzione come vedete trovate già basato sui dati che quello consigliato potete scegliere l'ultimo click primo click questo è una cosa abbastanza interessante anche analytics 4 è voluto a questo punto di vista il vecchio analytics 3 non aveva questo dato in maniera altrettanto semplice cioè si potevano fare dei paragoni fra i modelli di attribuzione ma che cosa significa in sostanza che se io vengo vengo da voglio uscire con una ragazza voglio sposare una ragazza quindi il mio lead è ci sposiamo la prima volta ci sentiamo su facebook mettendo dei mi piace a vicenda dopo qualche tempo passiamo a mandarci messaggi su su sempre su messenger di facebook poi ci diamo numero di whatsapp poi prendiamo un caffè insomma ci sono un sacco di step che portano al matrimonio la versione romantica del marketing il di chi è il merito del fatto che alla fine da sposo della sera che l'ho portata a cena e siamo andati a casa insieme o del primo mi piace messo su facebook o delle azioni nel mezzo è un po di tutto quindi ognuno di questi aspetti concorre noi dobbiamo avere però appunto una percezione dei vari step dobbiamo capire che quali mi piace messi su facebook ci hanno portato a cominciare a chattare su messenger e poi a whatsapp e poi a cena fuori e chi effettivamente è il ristorante che quando ci vai a cena poi vai a casa insieme e qual è il ristorante dove invece se ci vai a cena poi ognuno torna a casa macchina sua quindi dobbiamo seguire questo percorso in ogni step quindi va benissimo usare il basato sui dati perché traccia tutti questi valori con alcune eccezioni nel senso che in alcuni casi può essere utile andare a scegliere ultimo primo clic eccetera per vedere dove si inizia e dove si finisce però questo vi consiglio di farlo non come impostazione ma solo come paragone cioè andiamo a vedere che cosa succede se io ipotizzassi di misurare il mondo in quel modo ma è più lungimirante considerare tutto il percorso dell'utente ok qui clicco fine una volta cliccato fine forse ho sbagliato qualche cosa no salvo e continuo adesso lui avrà creato questa bella conversione e c'è un codice che mi dice copia scarica questo codice qui è quello che poi dobbiamo mettere nel tag manager o comunque nel nostro sito quindi questo codice lo dobbiamo consegnare al tecnico che lo vedete visualizza tag evento tag evento che può essere al caricamento pagina pensate alla classica thank you page io clicco su qualcosa mi manda la thank you page quindi caricamento pagina o al click quindi io ti misuro nel momento stesso in cui clicchi senza che ci sia una thank you page questo codice qui lo dobbiamo dare al nostro tecnico che lo implementa nel sito e quello sarà permetterà appunto che avvenga la registrazione di shop consiglio mio farlo sia con analytics che con google ads avere il doppio tracciamento visto che le logiche dei due pixel sono anche un pochino diverse ci rende poi la vita più sicura e stabile nel futuro si ha più dati è più facile fare ragionamenti per capire cosa va bene e cosa va male una volta mi pare di capire che google proprio propende per farle fare direttamente a google ads sì allora ovvio è come il pixel di facebook no se io vado a vedere il pixel di facebook mi dice quanto ha venduto questa settimana quattro fantastiliardi poi apro il sito e dico quanto ha venduto davvero quasi niente perché perché ogni pixel premia se stesso quindi analytics che per quanto può essere è meno efficace nel nutrire l'algoritmo dei vari sistemi quindi è giusto che ci siano i pixel dei vari sistemi ma è anche quello che ti fa il conto della selva quindi ci devono stare entrambi uno ti serve per dare tanto data d'algoritmo che effettivamente funziona meglio e uno ti serve per dire ok ma quindi quanto ho venduto per davvero perché uno rischia di attribuirsi un po troppa roba un'altra cosa che vi consiglio andare a vedere una volta che avete le vostre conversioni come vedete c'è scritto principale 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 ah sì tutto principale cosa significa allora se voi avete tante conversioni appunto alcune di queste conversioni probabilmente le state importando per controllare no per avere una percezione di cosa succede ma non volete che queste pesino sul comportamento dell'algoritmo appunto facciamo finta che sia una login potete tenerle tutte principali ma poi dentro la campagna in impostazioni trovate una voce quali conversioni vuoi che consideri e quindi poi in una singola campagna andate a selezionare solo le conversioni che sono sensate per quella campagna oppure se tutte le vostre campagne lavorano con la stessa logica invece di intervenire su tutte le campagne potete venire qui e cliccando su modifica selezionate l'obiettivo e gli dite secondario che significa che senza starla rimuovere no perché se lo selezionate lo potete anche rimuovere ma almeno è giusto continuare a avere quel dato è bello averlo poterlo vedere ma non deve influenzare il comportamento della campagna quindi lo selezionate modifica e gli dite secondario continuerete a tracciare quel dato sarà a vostra disposizione ma a vostra umana voi ci potrete fare le vostre riflessioni ma non influenzerà come si comporta la campagna fantastico ultima cosina sempre bene appunto controllare account collegati abbiamo visto prima lato analytics ora lato google ads di nuovo qua dentro troviamo l'elenco di tutti gli analytics di tutte le cose che abbiamo collegato al nostro google ads tra le quali appunto ci sarà analytics eccolo qua c'è un g4 e un analytics 3 anche qui attenzione perché se li avete entrambi tracciate tutto due volte quindi se sono correttamente configurati entrambi gli analytics daranno lo stesso dato misurato sia in modo 3 sia che in modo 4 nel momento in cui volete fare lo switch avete il 3 collegate il 4 mettete tutti i nuovi obiettivi del 4 come secondari quindi questi qui cominciano a popolarsi ma non influiscono sugli algoritmi il giorno che non avete raggiunto una buona soglia fate lo switch mettete secondari quelli del 3 e tenete aperto il 4 poi il 3 fra un po' di tempo morirà ma finché c'è ben di usarlo che continuerà a farci fare da a farci da benchmark no controllare che corrispondano i due valori insomma ti permetta sempre di avere un paragone attento se qui andiamo in gestisce collega troverete l'elenco di tutti i vari analytics al vostro account associati selezionate quello che vi interessa adesso non ve lo posso far vedere per questione di privacy però l'importante è che andiate sopra e controllate che sia sulla spunta blu cioè deve essere attivato la possibilità di condividere il dato perché c'è il rischio delle volte succede che è collegato ma non è spuntato l'opzione di condividi dati quindi è un collegamento finto ci siamo dati la mano ma non facciamo non camminiamo insieme e voilà finita qua ottimo fabio grazie infinite per la tua esperienza per tutto ciò che c'è condiviso ci vediamo al prossimo video al prossimo video ciao